Amici di Youtube, bentrovati da Marco Liguri. All'indomani della clamorosa esternazione del post di Iari Carrisi, che augurava la morte a Barbara D'Urso, arrivano le scuse da parte del figlio di Albano e Romina. Iari ha dichiarato non volevo offendere Barbara D'Urso e più che chiederci il perché e il per come del gesto di Iari, facciamo un plauso al figlio di Albano che ha fatto la cosa più giusta, ovvero chiedere scusa nella vita si può sbagliare ma è bene, sarebbe conso che tante persone tornino sui loro passi, sbagliare ci sta, come diceva anche il famoso monito, sbagliare o ma perseverare è diabolico, quindi un applauso a Iari Carrisi, speriamo che tutto ciò possa non ripetersi anche perché indirettamente andrebbe a ledere l'immagine di Albano e Romina in un periodo così delicato, amici YouTube, non ce n'è proprio bisogno, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro like a questo video, condividete questo video e soprattutto amici YouTube ricordate che nella comunicazione è sempre bene esprimere il proprio punto di vista ma senza ledere e danneggiare l'immagine altruia, spero che Iari Carrisi possa controllarsi, possa contare fino a 10 anche perché è un ragazzo molto in campo, molto intelligente e esprimere determinate considerazioni, figli soltanto della rabbia, non fanno altro che gettare home su questo ottimo personaggio, amici YouTube, seguitemi su Instagram, marcoli47, se siete fan di Albano e Romina, pagina FIS, Albano Carrisi Fan Club, ciao a tutti!